Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video vediamo oggi i miei consigli di formazione per la giornata numero 31 al Fanta Calcio in un'analisi partita per partita prima di iniziare mi raccomando lasciamo tutti il like che ricordo porta fortuna per la vostra squadra al Fanta Calcio quindi chi lascia il like vince la giornata e chi non lo lascia la perde quindi ragazzi spolliciamo a più non posso se non siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi ora non fatelo in futuro fatelo ora non rimandiamo a domani ciò che possiamo fare oggi soprattutto perché è importantissimo per non perdervi tutti i contenuti che usciranno su questo canale a tema Fanta Calcio vi invito anche a scaricare l'app OneFootball la migliore app per restare aggiornati su tutto il mondo del calcio di conseguenza anche del Fanta Calcio utilissima e super consigliata la funzione di inserire i giocatori del Fanta nella lista dei preferiti e ne saremo sempre aggiornati su di loro link per scaricare OneFootball gratuitamente in descrizione bene ragazzi partiamo prima partita Verona contro Bologna venerdì ore 20 e 45 quindi mi raccomando al giorno e all'ora in cui va schierata la formazione vi invito nuovamente anche ad iscrivervi gratuitamente attraverso il link che trovate in descrizione a Fanta Lab un tool fantastico a tema Fanta Calcio ovviamente per la gestione della formazione ma non solo utilissimo anche in sede d'asta vi consiglio di iscrivervi gratuitamente ora e poi valutate di fare successivamente la versione Premium ma comunque io ora vi invito ad iscrivervi link in descrizione prima partita l'abbiamo presentata Verona contro Bologna che partita può essere una partita non ricchissima di gol il Verona per me potrebbe fare il colpaccio contro un Bologna che sta benissimo un Verona che è tornato prepotentemente ad agire per la salvezza visto che si trova alla diciottesima posizione a sole tre distanze dalla diciassettesima lo spezia quindi una vittoria contro il Bologna sarebbe una vittoria importantissima per cui mi aspetto un buon Verona in questa giornata di questo buon Verona però sono principalmente due i giocatori sui quali vado a buttarmi a cuor leggero uno è Faraoni che è il capitano di questa squadra e l'altro è Montipò il portiere può fare un'ottima prestazione media voto poi la sua è comunque molto molto buona quindi anche in ottica modificatore di difesa qualora va a subire un gol lo compensa perfettamente tramite un buon voto valutabili diverse scommesse nel Verona partendo da Ngonge che non troviamo nella probabile formazione ma alla scorsa è entrato contro il Napoli ha sbagliato anche un'occasione clamorosa che poteva regalare i tre punti al Verona ma può rifarsi contro il Bologna vado a segnalare anche Simone Verdi da ex gli ex mai ragazzi da sottovalutare e Yen Yen difensore centrale che viene da un'ottimissima prestazione abbastanza incostante durante questo anno però quando il Verona fa punti lui porta sempre la sufficienza a casa ad esempio contro il Napoli ci ha portato un bel 7 in pagella altri nomi come Davidovic vediamo la media voto nettamente inferiore al 6 non lo schierrei poca fiducia anche Varitamese, Lasagna, Gaic che purtroppo non offrono grandissime garanzie però tenete presente che comunque partendo di venerdì male in panchina questi nomi sicuramente non sono anche in considerazione del fatto che partiamo il venerdì e terminiamo il lunedì quindi un Lasagna come secondo panchinaro ce lo metto tutto un Tamese secondo panchinaro ce lo metto tutto per quanto riguarda il Bologna ritorna Riccardo Orzolini dopo la squalifica ed è lui il nome chiave di questo Bologna il nome di Tiago Motta e quindi Orzolini è il primo giocatore al 100% consigliato l'altro giocatore al 100% consigliato è Posh anche contro il Milan un'ottima prestazione un giocatore che va schierato praticamente sempre senza se e senza ma il terzo giocatore che vado a inserire nel Bologna come potenziale da bonus è Ferguson per quanto riguarda Sansone lo hanno pochissimi al fantacalcio valuterei in base alle alternative quei pochi che lo hanno boccio barro veramente troppo troppo incostante e vado a bocciare anche la coppia di Mediani Scout e Dominguez però chiediamo il concetto non è una bocciatura netta e totale questa qui perché comunque sarebbero due buoni titolari ma non vedo potenziali bonus per loro questa giornata boccio anche Sumarò in difesa che potrebbe commettere qualche errore un po' come sempre Lukumi invece sta facendo un buon percorso nell'ultima uscita merita la schierabilità in questa giornata passiamo alla seconda partita che è Salernitana contro Sassuolo il Sassuolo che ha vinto contro la Juventus per 1-0 l'ultima gara la Salernitana che ormai soffre di pareggite ma come avevamo già abbondantemente previsto con l'arrivo di Paolo Sosa la Salernitana avrebbe steccato pochissime partite ed effettivamente con Paolo Sosa non ha mai perso ha fatto solo una vittoria poi 7 pareggi un rendimento assurdo veramente visto che i 7 pareggi sono stati tutti di fila però comunque una Salernitana che in questo momento offre delle certezze la prima certezza si chiama Memo Ochoa portiere da modificatore per eccellenza va schierato senza troppi problemi anche contro il Sassuolo soprattutto ragazzi se abbiamo un buon modificatore che può spingere tanto questa giornata Candreva altro giocatore certezza di Paolo Sosa va schierato per me al fantacalcio e poi Bulaiedia anche se gioca un po' più lontano dalla porta rispetto a prima può essere comunque un giocatore importantissimo e che per caratteristiche può mettere in difficoltà i difensori del Sassuolo passando al Sassuolo infatti la difesa non mi piace non è una difesa che espira i difensori non stanno facendo nemmeno benissimo quest'anno quindi c'è Andrea abbastanza con i piedi di piombo magari Rogerio se la può ben cavare soprattutto se viene confermata questa formazione con Candreva che gioca più dietro e Castagnos che va a fare la seconda punta slash alla slash trequartista in base al momento della gara però qualora dovesse giocare Candreva in quella posizione più avanzata Rogerio rischierebbe un po' più di soffrire le certezze del Sassuolo sono principalmente due per me e sono Davide Frattesi e Lauriente sono loro i giocatori da schierare senza se e senza mai in questo Sassuolo su tutti gli altri giocatori un po' più di domande attenzione alle condizioni di Berardi aspettiamo magari la conferenza stampa di Dionisi ci dirà sicuramente un qualcosina in più ma non mi aspetto diciamo nulla di estremamente positivo i vari Maximo Lopez Mataus Enrique buoni per la panchina per carità ma non li schiererei al fantacalcio stesso discorso per Pinamotti giocatore che quest'anno ha deluso tante volte nonostante abbia fatto un buon filotto nelle ultime uscite in termini di prestazioni però non mi convince ancora pieno quindi preferisco altri nomi per il nostro attacco passiamo a Lazio contro Torino due squadre in serie da 4 Lazio 4 vittorie nelle ultime 4 il Torino rendimento opposto quasi nessuna vittoria nelle ultime 4 quindi un calo un po' generale di questo Torino attenzione però a non sottovalutare il Toro perché proprio quando meno ce l'aspettiamo potrebbe anche tornare alla vittoria nella Lazio manca Ciro e Immobile sappiamo un po' tutti quello che è successo ci sarà Pedro falso 9 che comunque può essere una carta per chi lo ha quindi attenzione Pedro scommessa di giornata un po' come sempre nella Lazio consigliati sono gli stessi Provedelle è sempre la solita certezza in porta Romagnoli e Casale sappiamo bene cosa ci possono dare il 6-6 e mezzo Luis Alberto Milinkovic Zaccagni e Felipe Anderson sono i 4 dell'Ave Maria del centrocampo laziale che vanno messi praticamente sempre quindi discorso abbastanza banale per quanto riguarda la Lazio magari parliamo un attimo di Marcos Antonio che ha segnato all'ultima io vi dico non lo riproporrei perché comunque il gol è avvenuto in contropiede non è un giocatore che partecipa sempre attivamente alla vanovra soprattutto per andare alla conclusione per cui ragazzi non facciamo pazze scommesse su di lui per quanto riguarda il Torino vi segnalo comunque Scurs che senza Immobile può avere una vita più facile ed è l'unico difensore centrale che schiererei senza troppi problemi nel Toro capitolo Singo un giocatore che per caratteristiche può far veramente bene contro chiunque però non dà tantissime garanzie quest'anno quindi io la valuterei bene in base alle mie alternative se magari ho tutte partite difficili ci lascio un Singo ma se ho dei difensori con partite più facili difensori che sappiamo bene cosa ci possono dare ci accontentiamo di quel 6 e mezzo vado a puntare su quei difensori da 6 e mezzo skipperei la linea dei centrocampisti composta da Linetti e Ilic per il fantacalcio punto su Mirancic e su Radunic soprattutto che in quest'ultimo periodo si è preso il posto da titolare Mirancic sappiamo bene cosa ci può dare già la scorsa ci ha fatto anche un bell'assist capitolo Vlasic anche lui va valutato in base alle alternative perché comunque si è un giocatore di qualità assoluta però insomma il periodo non è propriamente positivo e quindi generalmente tendo a seguire i momenti di forma giocatori che stanno bene li dobbiamo preferire per cui se abbiamo dei giocatori che stanno bene vanno preferiti a Vlasic se non abbiamo alternative per me Vlasic un giocatore che anche dalla panchina lo possiamo schierare al fantacalcio Sanabria invece giocatore che sta bene in questo 2023 sta facendo benissimo e io non posso mai dire in questo momento Sanabria va lasciato fuori non posso Sanabria va schierato passiamo ora al derby ligure di questa serie che è Sampdoria contro Genoa una partita che può essere fondamentale per entrambe le squadre in primis la Samp si trova all'ultimo posto sembra poter aver perso un po' le speranze vediamo se ci sarà anche una risposta d'orgoglio contro lo Spezia Spezia che si trova al diciassettesimo posto per cui non può nemmeno perdere dei punti che sono preziosi per la salvezza visto che il Verone insegue a soli meno tre punti quindi una sconfitta in questa gara potrebbe essere anche decisiva per le sorti dello Spezia in questo campionato quindi attenzione molta attenzione a questa gara che potrebbe essere una gara abbastanza tesa con diversi cartellini gialli chi schierare però al fantacalcio a livello difensivo nella Samp Zanoli e Ugello sono i due nomi migliori Zanoli nonostante Paccia il difensore centrale il terzo difensore centrale si sta dimostrando un ottimo giocatore capace di spinger tantissimo nonostante la posizione che occupa e Ugello è realmente uno dei pochi mi azzardo a dire di questa Samp che merita realmente la categoria altri giocatori che meritano questa categoria ad esempio i Gabbiadini e un altro potrebbe essere Diuricic che però a volte sembra quasi si impegni troppo poco quindi molta più fiducia su Gabbiadini rispetto che su Diuricic gli altri giocatori ragazzi onestamente li lascerei un po' perdere perché non offron tantissime garanzie per quanto riguarda lo Spezia Reza miglior difensore in assoluto e parlano anche le medie voto le vediamo comunque Reza è un giocatore con la media del 6 gli altri sono tutti sotto al 6 mancherà anche Ampadu quindi insomma non facilissima a livello difensivo per lo Spezia questa partita punto magari tanto su un balanzolà e occhio ancora una volta alla scommessa Daniel Maldini che ripeto sta bene e io do fiducia sempre ai giocatori che dimostrano di stare bene parliamo ora di Empoli contro Inter quella che è stata la prima sconfitta nel 2023 dell'Inter a San Siro proprio contro l'Empoli un Inter che adesso è in fase negativa in campionato questa sera giocherà anche il Champions League quindi cerchiamo di cogliere qualcosa tra le linee tra le formazioni perché vediamo un po' che cosa succede perché qualora l'Inter questa sera vinca e passa il turno contro il Benfica vada in semifinale di Champions potrebbe tendere un po' a sottovalutare il campionato mettere tante riserve quindi potrebbe esserci un po' più di campo per l'Inter e infatti per l'Empoli pardon e infatti per quanto riguarda l'Empoli un po' i giocatori da schierare sono sempre gli stessi Parisi Baldanzi caputo un po' su tutti caputo anche rigorista ricordiamolo e insomma gli altri giocatori non mi fanno impazzire sarebbero un po' scommesse che definirei un pochettino pazze per quanto riguarda l'Inter sappiamo c'è il problema del ballottaggio una delle situazioni più facili a livello di ballottaggio per me da leggere riguarda gli attaccanti Lukaku Lautaro dice la probabile io dico che giocheranno Lukaku Correa perché poi comunque tolta la Champions settimana dopo si gioca di nuovo per l'Inter si gioca in Coppa Italia contro la Juventus si parte dal risultato di 1-1 Lukaku è squalificato quindi Lukaku gioca sicuro per me a questa e giocherà in coppia con il Tuco Correa e questa sera vedrete che giocheranno infatti Lautaro o Dzeko dall'inizio quindi per me la coppia d'attacco sarà quella poi gli altri ruoli ci sono diversi dubbi potrebbe giocare Gagliardini bisogna vedere al posto di chi di Barella o di Cialanoglu con Ciala che va a giocare al posto di Brozovic insomma poi c'è anche Mkhitaryan quindi il consiglio generale per tutti gli altri ma anche per tutti i giocatori dell'Inter è di schierarli sì perché comunque sono giocatori dell'Inter l'Inter è una squadra super valida una squadra che deve anche tornare alla vittoria ma vanno schierati con copertura ragazzi zero rischi se possibile e ovviamente restiamo il più possibile aggiornati su questa gara perché ci servono obbligatoriamente delle info di formazioni per fare le scelte giuste perché rischiano di esserci troppi balottaggi partendo a parlarne da oggi schierando oggi i giocatori dell'Inter ci sono troppi dubbi quindi dobbiamo rimanere aggiornati nei prossimi giorni passiamo ora Monza contro Fiorentina due squadre che stanno facendo un ottimo percorso e si trovano anche in zone abbastanza vicine di classifica visto che si spostano solo 4 punti la Fiorentina che comunque è in serie molto molto positiva 14 partite fra tutte le competizioni senza sconfitta il Monza però non ha mai vinto nella sua storia contro la Fiorentina soli due precedenti pareggio all'andata 1-1 a Firenze sconfitta nel 2019 per 3-1 in Coppa Italia chissà che non possa esserci la prima vittoria del Monza anche perché la Fiorentina potrebbe essere destinata prima o poi accadere visto che appunto viene da una striscia super positiva di 14 giornate senza sconfitte ovviamente c'è anche la Conference League che potrebbe togliere un po' di energie per cui occhio al Monza non va sicuramente sottovalutato è il primo nome sul quale faccio affidamento nel Monza è un difensore non parlo di un banale Carlos Augusto che ovviamente è consigliato quindi occhio a Carlos ragazzi non lo lasciate fuori ma parlo di Armando Izzo nelle ultime 5 benissimo 2-6 2-6 e mezzo è un 7 in pagella anche con un gol quindi veramente molto molto bene nelle ultime uscite giocatore super solido e sul quale possiamo continuare a fare un grosso affidamento per quanto riguarda poi l'altro esterno di centrocampo corrispondente all'altra fascia dove gioca Carlos Augusto quindi c'è Ciurria può essere protagonista può fare una buona partita non aspettiamoci grandissimi bonus quindi si può schierare il consiglio generale però senza troppe predese valutiamo magari le alternative in questo caso Pessina va schierato per me da trequartista va sicuramente messo poi Caprari Petagna ci dice la probabile formazione ormai Paladini il dubbio ce l'ho ammesso anche se vedo un po' più di certezze per quanto riguarda Caprari rispetto a Petagna per quanto riguarda la Fiorentina anche qui stesso discorso dell'Inter va valutato tantissimo il turnover dovuto all'Europa perché questa formazione può cambiare veramente tantissimo bisogna vedere un po' chi gioca se in conference gioca a Bonaventura se gioca a Barak questo fa tanto la differenza e questo vale per tantissimi altri balottaggi quindi insomma per la Fiorentina oltre magari i soliti nomi e io vi dico Cabral che nel 2023 sta segnando come non mai ha fatto tipo qualcosa come 8-9 gol tra tutte le competizioni meglio di lui solo mostri come ad esempio Holland e Bonaventura e anche Nico Gonzalez tutti gli altri ragazzi volendo ci sta a schierarli magari un po' meno i difensori centrali però un Biraghi qualora dovesse giocare anche un Iconè come scommessa anche un Dodò ci possono stare però ragazzi occhia alle formazioni perché se ad esempio noi in Conference League vediamo gioca Biraghi ma non gioca Dodò già capiamo il turnover d'italiano quindi sicuramente ci sarà Dodò ma è più a rischio Biraghi quindi se magari un Dodò non gioca giovedì sera ha molte chance di giocare contro il Monza e lo possiamo schierare quindi occhio ragazzi anche qui alle formazioni della Fiorentina passiamo ora ad Udinese contro Cremonese una gara che ipoteticamente potrebbe essere a strafavore dell'Udinese un Udinese che però non sta riuscendo più a vincere nelle ultime partite cosa che sta ben riuscendo invece la Cremonese che viene da due vittorie di fila 1-0 contro l'Empoli e 3-2 in rimonta contro la Sampdoria per quanto riguarda l'Udinese allora partiamo subito parlando di Rodrigo Becao ma non solo ci aggiungerei anche il buon Silvestri il buon Silvestri che ha preso gol nelle ultime quattro giornate di campionato è comunque un portiere storicamente da Cliccid quindi comunque io lo vado a consigliare contro la Cremonese perché per me può tornare al Cliccid per questa giornata se torno ovviamente al Cliccid potrebbero essere autori di buone prestazioni anche Nannuel Perez e Bijol che comunque vado ad inserire tra le scommesse per questa giornata Udoghi per il potenziale offensivo è comunque un giocatore consigliato di questa squadra così come per potenziale offensivo lo sono Samaric Lovric ovviamente il Tucumano Pereira che deve anche riscattarsi dopo il rigore fallito contro Ripatrizio nell'ultima giornata un rigore che poteva riaprire la gara contro la Roma invece è andata ad affossare e a chiudere per la Roma in favore della Roma contro l'Udinese quindi comunque Pereira per il riscatto Beto dovrebbe tornare ha avuto un piccolo problema fisico che lo ha fatto finire in tribuna contro la Roma lo andiamo ovviamente a schierare contro la Cremonese sono queste le partite da Norberto Beto per quanto riguarda la Cremonese fiducia soprattutto ai due esterni Valerio e Sernicola che sta facendo ottime prestazioni più di tutti e magari inseriamo ancora una volta come la scorsa giornata tra le scommesse dei Sers adesso passiamo a Milan contro Lecce allora qui ci sono due capitoli da aprire il primo riguarda il Milan che viene comunque dalla Champions League 1-1 contro il Napoli a passare del turno è andata in semifinale però c'è da dire che c'è il dubbio turnover anche qui nonostante tutto però il Milan settimana prossima non avrà alcun turno infrasettimanale quindi potrà diciamo riposarsi quindi fare uno sforzo in più per quanto riguarda qualche giocatore ma non tutti quindi un po' di turnover lo prevedo nel Milan un po' meno su alcuni giocatori soprattutto rispetto alla scorsa giornata dove c'era Magnan più altri 10 rispetto alla Champions infatti partendo dalla difesa qui ci dico un calore titolare io mi aspetto un Florenzi terzino destro titolare con Callu titolare come difensore centrale e al suo fianco probabilmente Tomori e Teo Hernandez quindi questi dovrebbero essere cambi della difesa del Milan ovviamente questi difensori qui ragazzi se li avete al Fanta vanno per me tutti schierati poi per quanto riguarda il centrocampo Benazer sta facendo veramente un ottimo percorso in quel ruolo però non so effettivamente quanto possa essere confermato lì quindi sui centrocampisti ho qualche dubbio in più ovviamente un centrocampista come Brain Diaz che per qualità può far veramente molto bene lo schiererei comunque capitolo De Chetelare purtroppo ragazzi il ragazzo sembra non convincere neanche più Pioli visto che ha un minutaggio veramente minimo anche quando gioca alle riserve quindi ve lo vado a bocciare poi magari arriva la svolta questa giornata però io boccio De Chetelare Leao non posso assolutamente bocciarlo potrebbe essere chiamato a fare gli straordinari anche in considerazione del fatto che Giroud non è al meglio quindi sicuramente Olivier non me lo aspetto titolare questa giornata mi aspetto Origi Origi può essere una buona scommessa di questa giornata visto che alla fine i gol che ha fatto non li ha fatti sicuramente contro delle big ma anzi ricordiamo ottimi gol contro neopromosse quindi Origi può essere un buon nome per questa giornata per quanto riguarda il Lecce fiducia un po' ai soliti ai soliti uno ad esempio è Baschirotto che sicuramente non ha paura del Milan un Milan che quindi potrebbe fare anche un minimo di turnover e quindi potrebbe perdere un po' di lucidità sotto la porta poi soprattutto se consideriamo che il Milan comunque non è una squadra che sta facendo valanghe di gol quest'anno quindi Baschirotto è comunque una scelta molto valida è il più valido fra tutti i difensori e è l'unico difensore del Lecce che vado a consigliarvi poi l'altro nome non può che essere Strefezza uno Strefezza che deve anche tornare al bonus sì se la scorsa lo abbiamo consigliato come scommessa questa giornata lo vado ad evitare passiamo ora Juventus contro Napoli il match di cartello di questa giornata il Napoli che viene dall'amarezza della Champions la Juventus invece giocherà domani in Europa League una gara ancora tutta da decidere quindi due squadre che potrebbero arrivare anche leggermente stanche però vediamo un po' cosa succede se ci sarà un po' di turnover o meno le formazioni però potrebbero essere abbastanza standard possiamo così definirle con più o meno quasi tutti titolari ovviamente trattandosi di un big match di una partita difficile l'invito come sempre di schierare maggiormente i giocatori che hanno più chance di portare bonus andiamo ad rinquadrarli per quanto riguarda la Juventus ovviamente Vlaovic è Di Mariano nonostante Vlaovic non stia vivendo un buon momento di forma ci inserisco anche un Kostic che nei big match quest'anno si è fatto sentire in particolar modo anzi meglio Kostic nei big match che contro le piccole e vado ad inserirci anche e nonostante tutto il buon Federico Chiesa per quanto riguarda il Napoli vado ad inserire in questa speciale classifica i soli Kvara e Osimen tante le condizioni da valutare nel Napoli ad esempio quella di Politano che sicuramente poteva essere un buon giocatore per questa gara visto soprattutto che è centrocampista anche meglio di Lozano Lozano che però vado ad inserire tra le possibili scommesse per possibile rendimento buono difensivo metto Danilo e Bremer nella Juventus ovviamente anche il portiere Cesni ma attenzione c'è ancora il dubbio che possa giocare per in visto che Cesni ha avuto qualche problemino la scorsa settimana quindi ancora un pochettino in dubbio ancora un po' tutto da vedere nel Napoli di Lorenzo e Kim sono certezze assolute Mario Rui non dovrebbe essere della gara visto che è uscito in Champions acciaccato quindi mi aspetto Olivera titolare che però non dà grandissime garanzie Rachmani l'ho visto molto male contro il Milan forse anche un pochettino stanco per cui io non ci farei affidamento e passiamo ora ad un'altra partita importantissima di questa giornata che vedrà affrontarsi l'Atalanta e la Roma due maestri come allenatori che purtroppo fantacalcisticamente non mi fanno godere benissimo queste due squadre Gasperini e Mourinho che gara può essere può essere questa una gara da pochi gol visto che l'Atalanta quest'anno non sta segnando tantissimo e i pochi gol fanno parte anche un po' della Roma di José Mourinho visto che praticamente segna con pochissimi giocatori non sono tanti giocatori che riescono ad andare costantemente a rete nell'Atalanta attenzione dovrebbe mancar di nuovo Luckman quindi mi aspetto coppia di titolare ancora una volta Oilund Zapata un Zapata partirei da lui che ha deluso deluso troppo Gasperini stravede per lui quindi lo continua a schierare se non si ha le alternative lo si può schierare se si hanno altre alternative ragazzi andiamo su quelle altre alternative onestamente anche un po' stancato questo Duvan per quanto riguarda Oilund gli do più fiducia per quanto dimostrato finora rispetto a Zapata quindi Oilund per me è da schierare questa giornata se lo si ha al fantacalcio torna finalmente Kukmeiner che è un giocatore che può dare qualità e quantità a questa squadra presente anche con i corner con le punizioni quindi potrebbe regalare una gioia inaspettata andiamo a sottolineare comunque sempre le positive prestazioni degli esterni Mele e Zappacosta soprattutto rispetto a quelle difensori centrali che nelle ultime giornate stanno un pochettino tradendo quindi occhio i difensori centrali della Dea non mi fanno impazzire per questa giornata Ederson trequartista assolutamente bocciato io non lo schiero non è il suo ruolo e quindi non rende bene lì per quanto riguarda la Roma chi schierava al fantacalcio schieriamo Smalling fra difensori centrali vi dico solo lui solo lui magari un mancini da ex ci può stare pensarlo ma va valutato soprattutto in base alle alternative l'ex più merita voleva di essere schierato sicuramente Spinazzola meglio anche di Cristanto un Cristanto che era stato riproposto rigorista ma torna di bala e soprattutto aveva anche fallito il rigore quindi zero idee su Cristante Wijnaldum può essere autore di una buona prestazione visto che nella Roma di Mourinho giocano bene soltanto e segnano soltanto i giocatori per i quali Mourinho stravede che ha voluto anche fortemente in questa sessione di mercato ovvero Wijnaldum e Di Bala sono loro due veri consigliati e Bram e Pellegrini un passo indietro rispetto a loro bene ragazzi per il video di oggi è tutto vi ringrazio per l'attenzione mi raccomando a like lasciatelo tutti se non siete iscritti iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti